Professor Bosetti, siamo qui in provincia, vediamo di cominciare prima di tutto da una panoramica sulle finali nazionali Under 14 che ha fruttato lo Scudetto, Under 16 e Under 18 per Orago. Che periodo è stato? Intenso ma anche vittorioso e ricco di soddisfazioni? Sì, diciamo che questo è il sunto. Abbiamo fatto una buona competizione con l'Under 14, sapevamo di avere una squadra all'altezza della situazione. Forse l'ostacolo più grosso è stato proprio qui in provincia perché sia noi che Busto eravamo competitivi ai massimi livelli nazionali per cui questo poi dopo si è manifestato anche con un primo posto nostro, un terzo posto di Busto oltre che un secondo posto di Roma che è stato importante perché anche lì è stato un lavoro di quest'anno iniziato e che ha dato i suoi frutti. Per quanto riguarda poi l'Under 16 secondo me ci siamo posizionati nella nostra posizione in quanto che Roma e Lilliput settimo torinese sono un gradino sopra di noi sia sul profilo fisico che su quello tecnico per cui quella è la nostra posizione. Non ultimo l'Under 18 che si è classificata al quarto posto e diciamo che anche quella lì è la sua posizione corretta. Un po' di rammarico per la partita di terzo e quarto posto, persa 3 a 2 ma c'è da anche dire che abbiamo passato il turno con un 3 a 2 con Monza per cui diciamo che il bilancio si pareggia un pochettino. Un po' di rammarico perché aver fatto tre finali e aver avuto la possibilità di vincere tre medaglie ci sarebbe stata la ciliegina sulla torta. È andata così e siamo contenti comunque e vuol dire rafforzare e consolidare una importante posizione giovanile nazionale anno per anno. Si è chiusa e si chiederà breve la stagione. Per l'anno prossimo quali sono le prospettive, gli obiettivi futuri, le novità magari? Adesso ancora non so io che cosa ho intenzione di fare perché onestamente vorrei passare dall'altra parte della barricata a mettermi un po' più con i piedi sotto una scrivania perché ormai sono 45 anni di palavolo e poi di palavolo importante, capito? Dove sono stato in prima linea per cui mi piacerebbe passare negli uffici della foresteria per gestire un pochettino le situazioni e non essere in primo piano. Però su Orago penso che possa ancora essere competitiva sicuramente nell'Under 14 dove già ha una squadra Under 13 che ha vinto il titolo regionale per cui è già pronta. Manca uno o due innesti che sono già previsti. Nel resto noi cerchiamo di fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo e non di più. Ci piacerebbe essere parte di qualche progetto un po' più rilevante ma purtroppo nessuno ci cerca, probabilmente non piaciamo e siamo anche convinti di non piacere perché chi vince troppo dopo la fine diventa anche scomodo, non come persona ma come contesto.